Chi in Svizzere mi stanno aspettando? Non posso farli attendere sul ghiacciare. Coraggio, cominciamo. Qui c'è l'autorizzazione per la rimozione del cadavere. Una volta che avrete definito il confine con precisione, ovviamente. Vostro professore ha definito che il cadavere appartiene a vostra nazione. Chissà cosa cercava su di là. Sarà come il guerriero della Val Venosta. Sì, signor sindaco, sono arrivati. No, no, soltanto gli italiani. Gli svizzeri non si sono ancora visti. Forse abbiamo l'arma del delitto. Colpito nel fulmino! Grazie mille per l'aiuto. Oddio. Ehi. Può servire? Che succede? È arrivato l'elicottero del 118. I libri. Gira. Gira. L'uomo non è morto sul ghiacciaio. Ma almeno è antico. Questo vediamo dopo. Quindi vuol dire che è morto dopo il 45 e prima del... Del 1986. Ore 19 e 15. Sentiamo lontanissimi grida di aiuto. Del 1986. Onore dei ministri. Noi non è morto. minuteangerie. Almeno 4.